Ciao a tutti, siamo Giuseppe e Valeria, Vini Scirto, e parliamo di Etna. Scusate per il nostro inglese, non parliamo molto bene, ma possiamo provare a raccontare chi è e cosa stiamo facendo in Etna. Iniziamo a produrre vino nel 2010, ma la compagnia era Giuseppe, ha prodotto vino blanco, vino spuso, e olive oil. In 2005, è morto, e in 2009 abbiamo deciso di lavorare nel vineyard, e nel 2010 abbiamo prodotto la nostra prima battaglia. Quando abbiamo iniziato a lavorare nel vineyard, abbiamo deciso di lavorare in modo naturale. Non usiamo chimiche nel vineyard e nel cellar, abbiamo deciso di lavorare in modo organico. Iniziamo con 2,5 hectare, ora abbiamo 5 hectare, ma la compagnia resta la stessa, Giuseppe e Valeria. Abbiamo lavorato nel vineyard, e nel cellar, abbiamo visitato solo 2 persone. e noi siamo arrivati al nord di Etna. Il vineyard è stato molto vecchio, mille centenari, e le vapore sono nerello mascalese, nerello capuccio, per il vino rosso. e Carricante, Catarrato, Minella e altre autochtoni per il vino bianco. Produciamo 4 labelli, 1 vino bianco e 3 tipi di vino bianco. Vogliamo raccontare il vino bianco, produciamo 4 labelli, ma iniziamo con 2 labelli, 1 rosso e 1 bianco. Iniziamo a raccontare il vino bianco. Il nostro primo labello è Aculonna, un vino bianco. Le vini sono Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio. Produciamo questo vino da un solo vino bianco, in Passo Pisciaro, in Contrada Feudo di Mezzo. Questo vino bianco era di Giuseppe. Le vini sono Nerello Mascalese e Nerello Cappuccio. Abbiamo trovato questa grafica nella prima settimana di ottobre. E per 35 giorni queste grafica sono in macerazione, in contatto di pezzi. e poi lo mettiamo in acqua per 24 mesi. Le fermentazioni sono spontaneose. E non usiamo la finta e le vinaio, le vini sono fede. E quindi il nostro vino non filtrano. e questo vino è una produzione molto piccola abbiamo preso le gravi che sono in questo vino da tutti i vinaigliari abbiamo una altitudine differente ma abbiamo preso le gravi nel stesso momento in settembre le gravi sono Carricante, Catarrato, Minella, Grecanico e altre varietà autoctone e questo vino è un macerato white 5 giorni di contatto di pezzi e poi lo mettiamo in stile per 10 mesi per 10 mesi e sono infiltrata non utilizziamo chimiche nel vinaigliari come nel cellar e non mettiamo solfitti con le fiezi